samba non ti rispondi mai al cellulare ma non funziona non funziona non funziona fammi vedere mamma mia è un cellulare vintage ma si funziona se dici è un vintage se funziona è un vantaggio se funziona allora se avete ricevuto a natale un nuovo cellulare quelli che non usate portateci alla città